Salve, mi chiamo Simona Dentrona, sono una dietista, lavoro al servizio gene degli alimenti e della nutrizione dell'Asur, fa parte del dipartimento di prevenzione quindi noi ci occupiamo di salute pubblica e lo facciamo anche attraverso la nutrizione, quindi interventi di educazione alimentare nella popolazione oppure seguendo i dietetici scolastici o anche le mense delle casse di riposo volevo appunto parlarvi dell'alimentazione degli anziani che in questo periodo di coronavirus sono quelli più esposti all'infezione, è molto importante fare attenzione a quello che mangiano le persone di una certa età sia che vivano con la famiglia o soli o con dei badanti o anche in delle strutture. Dobbiamo assolutamente evitare la malnutrizione che può essere quella in eccesso ma può essere anche in difetto sia di calorie che di nutrienti. Facciamo quindi attenzione a ripartire bene la nostra alimentazione sia nei pasti giornalieri che in quello che mangiamo. Un' abbondante colazione sempre il modo migliore per cominciare la giornata può essere dolce o salata in base al gusto personale. Degli spuntini spezzafame possono essere tranquillamente fatti con uno yogurt oppure un frutto. Il pranzo deve essere invece il pasto più abbondante della giornata. L'ideale sarebbe se potessimo fare un piatto unico magari un abbinamento tra cereali quindi la classica pasta riso orzo farro il mais come la polenta insieme a dei legumi ceci fagioli e lenticchie sempre e comunque ad ogni pasto pranzo e cena abbinare almeno un contorno delle verdure di stagione cotte o crude ricordatevi che le patate non sono considerate verdure. Per aumentare l'apporto di fibra la verdura possiamo anche utilizzarla per fare delle vellutate o un bel passato di verdure miste. Anche la frutta la possiamo mangiare così come è ma chi ha problemi di masticazione di deglutizione può essere anche cotta frullata grattugiata o anche spremuta. Per quanto riguarda invece il pasto della sera deve essere più leggero e possiamo alternare mi raccomando non mangiate sempre le stesse cose l'alimentazione non deve essere monotona ogni alimento contiene una sostanza ma è carente di un'altra e quindi alternate il più possibile almeno un paio di volte alla settimana il pesce una volta la carne magra una volta le uova una volta un formaggio magro evitiamo però possibilmente le carni conservate insaccati insomma per l'eccessivo apporto di sale. Una cosa importantissima l'acqua bisogna bere molta acqua può essere in bottiglia di rubinetto liscia frizzante aggiungiamoci un goccino di limone se vogliamo prepariamo degli infusi o delle tisane ma cerchiamo di bere molta acqua